Il territorio è pronto ad accogliere i turisti che a partire dall'11 di luglio atterreranno all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Sono tante le iniziative in tal senso, con i comuni particolarmente attivi per farsi trovare pronti. Dalla regione Campania per l'appunto fanno sapere che si è dato il via all'iter per garantire la presenza di taxi presso lo scalo. A firmare un accordo preliminare sono stati l'ente di Palazzo Santa Lucia, rappresentato dal Presidente Commissione Trasporti Luca Cascone, la provincia di Salerno e di comuni direttamente interessati, almeno dal punto di vista strettamente geografico, e dunque Salerno, Ponte Cagnano, Faiano e Bellizzi. L'accordo rappresenta un primo passo, dice Cascone, per garantire una giusta accoglienza ai viaggiatori che sceglieranno di utilizzare il nuovo scalo aeroportuale. Orando, le parole del primo cittadino di Bellizzi, Mimmo Volpe, ad un grande progetto di ingresso. Si tratta di un finanziamento regionale straordinario, di oltre 14 milioni di euro affidato a Gesac per la progettazione. Il primo punto di accoglienza, completamente rinnovato e riqualificato, sarà Bivio Pratole. La grande rotatoria sulla SS18 ci consentirà di realizzare una nuova piazza, che darà decoro all'intero centro storico, recuperando parcheggi e spazi verdi. Il cavalcavia di Viale Olmo, poi, sarà completamente messo in asse, conclude Volpe, facendoci recuperare nuova viabilità e maggior sicurezza. Insomma, è una lunga serie di progettualità che darà un nuovo aspetto al comprensorio. Interventi per la creazione di servizi e strutture a supporto dello scalo, nell'ottica di un rilancio, sia della parte alta della provincia, dove l'aeroporto sorge, e sia di quella a sud, dove si attende un flusso di turisti diverso rispetto al solito. Ovviamente, solo il tempo darà ragione a chi oggi vede nello scalo un nuovo punto d'inizio, ma sono gli enti che dovranno giocare un ruolo fondamentale, facendo in modo di essere pronte ad offrire quanti più servizi al turista sotto ogni punto di vista, ed in primis quelli legati ai trasporti ed alla viabilità.